La bellissima modella americana 19enne Bella Hadid ha la malattia di Lyme. Soffre di questa patologia da qualche tempo ed ha voluto condividere con i fans il suo stato d'animo ed anticipare ai suoi followers l'uscita del libro di sua madre prevista per il prossimo anno. Yolanda Hadid, questo il nome della madre della bella modella, è affetta dalla stessa patologia e nella sua autobiografia ne parla diffusamente. In una lunga lettera aperta condivisa sulla sua pagina social Bella ha avuto parole toccanti per la sua mamma che lotta coraggiosamente contro questa brutta malattia. Sono così orgogliosa di mia madre oggi e sempre. Questo libro segna un giorno così importante per te. Ti ho vista a letto lottare negli ultimi cinque anni della nostra vita e dicevo come può una cosa del genere capitare a un angelo come te? Volevo piangere ma non c'era nulla che avrei potuto fare per aiutarti, ha scritto la modella che ha poi raccontato di come anche lei e suo fratello abbiano contratto lo stesso morbo e di come a causa dei sintomi abbia dovuto rinunciare a molte delle cose che ama, compresa la scuola e al sogno di diventare una cavallerizza professionista. La malattia di Lyme prende il nome dal paese del Connecticut in cui nel 1975 si verificò un altissimo numero di casi ed è particolarmente diffusa in zone di campagna poiché si prende dalle zecche che spesso infestano i boschi. I conduttori possono essere animali selvatici come scoiattoli o cervi ma non si trasmette da persona a persona. I primi sintomi si manifestano con una grande spossatezza e con degli eritemi su schiena, braccia e gambe ma diventano via via più gravi. Il morbo di Lyme può portare addirittura a paralisi facciali, problemi cardiocircolatori e artrite, anche cronica. Se non è tenuta sotto controllo in maniera adeguata la malattia può attaccare anche gli organi interni e nei casi più gravi provocare perdite di memoria e problemi comportamentali. Il morbo di Lyme è molto diffuso negli Stati Uniti ma anche in Sud America ed in alcune regioni dell'Europa. In Italia i casi sono ancora relativamente pochi, purtroppo non esiste una cura definitiva alla malattia anche se la ricerca in questo senso sta facendo dei grandi passi avanti.